Ciao dolcezze, oggi il nuovo giveaway Allora vi faccio vedere subito il premio Ed è questa fantastica palette da 77 colori Allora tolgo la protezione per farvela vedere meglio Qui ci sono i colori sul beige, poi sul marrone, sul bordeaux Arrivando agli azzurri, i verdi, ai grigi E' una palette molto completa, quindi potete fare tantissimi make up Ci sono anche due applicatori e uno specchietto Quindi potete sbizzarrirvi veramente E vi dico subito cosa fare per vincerla Dovete essere iscritti al mio canale Se non lo siete, cliccate il pulsantino che c'è qui sopra il video con scritto iscriviti Poi solo sotto questo video potete lasciare tutti i commenti che volete Quindi commenti illimitati Mettere questo video tra i vostri preferiti per farlo circolare un po' E se vi piacciono i premi, solo se vi piacciono i premi, spolliciate Buona fortuna a tutte dolcezze Vi ricordo che nella mia paginetta facebook ho aperto un giveaway Con in palio 6 smalti della Beauty OK Quindi vi lascio il link nell'info box per poter partecipare E ovviamente lì ne faccio pochissimi di giveaway Allora ho pensato appunto di premiare anche le ragazze che mi seguono su facebook giornalmente Dolcezze, questo è tutto Io vi mando un bacione grandissimissimo E buona fortuna a tutte Ciao